8 ettari di grano duro distrutti dalle fiamme e questo il bilancio di un vasto incendio divampato nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 10 a Raiano. L'incendio è l'ambito delle abitazioni vicine con i proprietari che si sono riversati strada e hanno vissuto momenti di paura e concitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per le operazioni di spegnimento che non sono risultate affatto facili vista l'entità e la vastità del rogo assieme ai carabinieri che hanno gestito il traffico. Gli agricoltori contano i danni. E' stato quindi un pomeriggio tutt'altro che tranquillo per i residenti della zona che hanno allertato il centralino del 115 dando manforte inizialmente a contenere fuoco torna l'incubo degli incendi estivi. Insomma momenti di panico eh? Vi siete visti il fumo arrivare? Vi ha fumistato le fiamme sì. Ma l'ha vinto la casa. Eh quindi vi siete attrezzati?